Non sarà più possibile fare lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta per gli incentivi sull'edilizia, come il super bonus 110%. Lo prevede un decreto varato dal Consiglio dei Ministri. I vari bonus restano in vigore con la modalità della detrazione d'imposta. Il decreto prevede alcune deroghe per le operazioni già in corso. Il testo chiarisce poi le norme che regolano la responsabilità di fornitori e imprese nel caso in cui il beneficiario dell'incentivo fiscale non abbia i requisiti. Traendo spunto dalla decisione adottata e comunicata anche in Parlamento da Eurostat abbiamo deciso di porre di vieto alle amministrazioni locali e alla Regione di procedere a questi sconti perché avrebbero un impatto diretto sul debito pubblico nonché soltanto per i futuri progetti presentati da domani della possibilità di accedere al credito d'imposta, allo sconto mentre rimarranno pienamente in vigore nella misura attuale tutte le forme di bonus però solo nella forma di detrazione d'imposta come ordinariamente è stato. Rilanciare il ruolo della Sardegna al centro del Mediterraneo è l'obiettivo dell'accordo siglato tra Intesa San Paolo e il commissario straordinario della zona economica speciale Sardegna Aldo Cadau. Secondo le stime le ZES possono impattare in modo importante su alcuni indicatori economici incrementando il traffico portuale fino all'8-9% anno e l'export del 4%. Tema chiave è accompagnare le aziende nel cogliere tali opportunità. Il protocollo d'intesa ha come obiettivi il supporto agli investimenti sostenibili delle piccole e medie imprese come evidenziano Aldo Cadau e Massimo Dejana, presidente e autorità sistema portuale del mare di Sardegna. È un territorio importante di 2.700 entari, questo territorio si potranno insediare e potranno realizzare investimenti sia le società che attualmente già operano nel territorio sia nuove iniziative e quindi attraverso il marketing territoriale e l'attrazione di nuovi investimenti dobbiamo cercare di creare sviluppo e nuovi costi di lavoro. Si tratta sicuramente di una misura di vantaggio di cui abbiamo assolutamente bisogno e che fondamentalmente ci dovrebbe mettere in condizione di competere, se non ad armi pari comunque con dei livelli di capacità concorrenziale superiore rispetto a quelli attualmente esistenti. Intesa San Paolo partecipa dal 2017 alla promozione delle ZES meridionali. Di recente ha rafforzato il plafond disponibile portandolo a 5 miliardi ed è in procinto di promuovere emissioni all'estero con lo scopo di coinvolgere gli investitori internazionali. Stefano Cappellari, direttore regionale per Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna di Intesa San Paolo e Massimo Di Andreis, direttore generale SRM. Come Intesa San Paolo il nostro ruolo principale rimane quello di finanziare e sostenere sotto l'aspetto che l'intizio questa crescita. Lo stiamo facendo mettendo a disposizione un plafond di 5 miliardi per le ZES, lo stiamo facendo per la Sardegna mettendo a disposizione un ulteriore plafond di 2 miliardi e 4 per le aziende sarde e per finanziare gli investimenti, ma crediamo che essendo una banca di sistema il nostro ruolo vada anche oltre e sia quello di mettere in connessione tutti gli stakeholders e gli attori di questa crescita. La Sardegna ha tutte le caratteristiche per diventare centrale, lo è già geograficamente, si tratta di intercettare una parte dei nuovi investimenti che si stanno rilocalizzando in Europa o più vicino all'Europa. Finanziamenti per 800 milioni di euro a fronte di richieste per 8 miliardi sono i risultati del primo anno di Banca CF Plus, ex credito fondiario. Ne ha parlato in un'intervista Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy, l'amministratore delegato e direttore generale Jacopo De Francisco. L'istituto di credito è specializzato in tre aree, il factoring, acquisto di crediti fiscali IVA e Ires e finanziamenti assistiti dai fondi centrali di garanzia. In queste aree di business abbiamo ricevuto quasi 8 miliardi di richieste nel primo anno di operatività e 800 milioni di finanziamenti. Allora, ciò che vogliamo ci distingue è chiaramente rispetto a una grande banca commerciale con le filiali che noi non abbiamo, perché è tutto attraverso internet, attraverso agenti sul territorio, mediatori. Ecco, quello che chiaramente deve distinguerci è rapidità nei tempi di risposta e una risposta. E' ovvio che partendo da 8 miliardi siamo arrivati a 800 milioni, quindi di no ne abbiamo detti tanti. Però lo facciamo in tempi di no. Quando è che dite una cosa di requisiti, i mancati requisiti. Consideri che noi facciamo una prima analisi di prefattibilità, rating e indicatori di bilancio in 24 ore, quindi dopo 24 ore diamo la prima risposta, sì o no. C'è un sì che ovviamente poi analizza l'operazione, analizza se l'operazione è coerente rispetto a quelli che sono i flussi di cassa attesi dell'azienda e qui ci impieghiamo una trentina di giorni per arrivare all'erogazione. Quindi in 24 ore il primo sì e poi una trentina di giorni per fare tutte le nostre valutazioni interagendo con l'azienda e andare a dare una risposta definitiva. Obiettivi allora a breve termine? Guardi, noi quest'anno 2023 contiamo di arrivare a circa, on top dei nostri 800, quasi un miliardo e mezzo di finanziamenti. e quindi fare il doppio quest'anno. Nella tregua fiscale della legge di bilancio 2023 è stata prevista anche la chiusura agevolata delle liti pendenti con il fisco. La domanda di definizione va presentata entro il 30 giugno e dentro la stessa data va pagata l'unica o la prima rata di 20 tutte uguali. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate troverete tutte le istruzioni per determinare gli importi dovuti.